Uno studio tutto italiano ha dimostrato che l'aggressività delle cellule staminali di glioblastoma, tumore più comune e più aggressivo del cervello, è regolata da una piccola molecola interruttore, la S1P, che rende il tumore resistente alle attuali terapie. La ricerca in particolare ha stabilito che le staminali di questo tipo di tumore possono essere uccise utilizzando l'inibitore della S1P e unire questo inibitore alla chemioterapia potrebbe portare un concreto vantaggio nelle terapie per i malati di glioblastoma.